È una richiesta di maggiore attenzione alla pulizia quella che è stata segnalata alla nostra redazione per la rubrica Viaggio nei quartieri che oggi fa tappa sull'allungo Irno nella nuova passeggiata che è dalla parte alta al centro della città attraversa il comune capoluogo. Chi vive nella zona del Carmine, chi parte da Fratte, da Calata a San Vito, chi vuole arrivare per esempio al Parco Pinocchio, chi vuole proseguire verso il centro della città conosce bene questo nuovo percorso ed oggi la richiesta che è arrivata alla nostra redazione è solo quello di renderlo più gradevole. Abbiamo provato anche noi a fare questa passeggiata scoprendo in verità meno degrado di quello che ci aspettavamo, sì qualche sacchetto ma soprattutto molto fogliame verde e c'è certamente una maggiore necessità di intervento sulla manutenzione. Insomma si può fare di più e c'è fiducia che sarà fatto. A proposito di verde e di promesse e attenzioni, proprio oggi il comune di Salerno mantiene fede ad un impegno preso sul fronte della manutenzione del verde pubblico e del controllo delle alberature a rischio. A Via Gaurico, nel quartiere di Torrione, da stamani sono partiti lavori di abbattimento di 8 alberi a rischio caduta. 8 per il momento ma il numero potrebbe salire se dai successivi controlli affidati all'agronomo del comune di Salerno si dovessero rilevare altri alberi in cattivo stato di salute. Grazie a tutti.